Il fuoco che arriva dopo un viaggio lungo tra l'Aquila e Sulmona, l'accensione del tripode della pace da parte del sindaco, dopo la consegna della fiaccola. Ad opera degli ultimi tedofori, due ragazzi del 2009, figli del sisma ma anche simbolo di una città che ha saputo rinascere e che lo fa ogni volta, si è aperta così a Colle Maggio la perdonanza numero 730, con una cerimonia sobria e sentita, con un pubblico numerosissimo. Allora intanto noi abbiamo la più grande pop star degli ultimi secoli, che è una presenza fissa, che è Papa Celestino V, che nonostante il suo essere stato un eremita, essere salito al soglio pontificio da ultraottantenne, rimane un personaggio moderno, attuale, dinamico. Intorno a questa grande figura costruiamo anche un parterre di artisti che riguardano tutte le età, dai più giovani, dai piccolini, fino alle persone un po' più avanti con l'età, che possono trovare in questa settimana, ma in generale nel corso dell'anno, espressioni artistiche di gradimento a 360 gradi. La cerimonia di apertura della perdonanza ormai, da quando la direzione artistica è stata affidata al maestro Leonardo De Amicis, si caratterizza per lo spettacolo inaugurale. Non un semplice concerto, ma uno spettacolo con parole, significati, monologhi e musica. L'orchestra sinfonica del Conservatorio Casella, con i cori aquilani, accompagnato le straordinarie esibizioni di Renato Zero, amico ormai della città, dei Tiro Mancino, di Malika Ian, dei De Colors, di Colapesce di Martino, del tenore Gianluca Terranova. Quest'anno si è dato molto spazio al messaggio di Celestino, è stato un attore a chiudere lo spettacolo, con parole dell'eremita del Morrone, il Papa Santo, colui che ha portato Papa Francesco all'Aquila, primo Papa ad aprire la Porta Santa, emozioni uniche per uno spettacolo che davvero ha contentato tutti ed ha emozionato.